Salve, buona domenica. Il coronavirus ha determinato una situazione particolare, incredibile, fino a pochi mesi fa. Un virus del cui non si aveva nessuna notizia in tre mesi ha determinato un cambiamento radicale nella nostra esistenza. Ci siamo dovuti distanziare e per forza creato nuovi modi di vivere. La pandemia ha messo in evidenza problemi nuovi in campi differenti, come la scuola, ad esempio, dove l'insegnamento smart è diventato fondamentale, accenduando difficoltà tra le persone minaggiate, non dimentichiamo gli anziani, accenduando problematiche legate alla grave crisi economica, che dovremo sicuramente arginare nei prossimi mesi. Le associazioni Amdos e Amos Irpine non si sono fermate in questo periodo. Mediante gli smartphone hanno aiutato le persone a sentirsi meno solo, hanno cercato di dare delle risposte al territorio. Mediante raccolta fondi per ospedale moscati, il frangipane, aiutando le persone in difficoltà. In questi giorni stiamo dando delle magliette alle persone con il logo Andrà Tutto Bene, il nostro simbolo e in particolare l'arcobaleno, la speranza del recupero della situazione preesistente. Nei prossimi mesi non dobbiamo mai abbandonare le buone abitudini che abbiamo fino adesso messe in campo, quali mascherine, guanti, lavare le mani. Usare quindi la frase che tutti stanno usando Andrà Tutto Bene non è solamente una speranza, è la possibilità che in pochi mesi ci postavano da capo riabbracciare e sentirci uniti come prima. Salve.